Eccoci qua per questo post, terbi, Ponte San Pietro, Brusaporto, calcio, un centrocampo quest'oggi di Cesare Coruggeri, Ferreira Pinto, mettiamoci pure il giovane signore, oggi davvero ha fatto la differenza. Sì, è stata una partita sofferta, sapevamo del valore degli avversari, venivano sicuramente da un periodo ottimo perché hanno vinto 9 partite su 10, sapevamo che dovevamo fare una partita di sacrificio, allo stesso tempo sfruttare le occasioni che avevamo, abbiamo avuto diverse occasioni per poter andare in vantaggio, poi la partita diciamo siamo riusciti ad indirizzarla per il meglio e bene o male che sono venuti i tre punti. E le scelte di Curioni fuori critta, Cerini squalificato, fiducia a Berardelli? Sicuramente siamo una squadra che ha bisogno di tutti, come il campionato comunque ci induce a fare numerose partite ripetutamente, c'è sempre bisogno e l'apporto di ognuno, diciamo che tutti sono utili e nessuno è indispensabile, sempre tra virgolette e ci è andata sicuramente oggi una mano i ragazzi che avevano in questo caso giocato di meno, hanno fatto tutti una gran partita, dal primo all'ultimo, da Remondini a Berardelli e niente, questa è la strada per poter arrivare al nostro obiettivo. E dopo la sconfitta di mercoledì scorso per 4-2 con il Desenzano Calvina oggi ci si riscatta, si trova la giocata da pallina attiva, calce a Ferreira Pinto, pallone che arriva sull'inzuccata giusta di Ruggeri, trova l'1-0 ventisesimo del secondo tempo, poi chiude tutto dietro con una buona linea difensiva, Ponte San Pietro si porta a casa a tre punti fondamentali. Sì, diciamo che è stata una partita molto tosta quella di mercoledì, avevamo sprecato molte energie, nonostante comunque il risultato non fosse proprio meritato, venivamo da tre prestazioni, quelle anche con la Leone e con il Villavalle positive e abbiamo comunque continuato a fare la nostra prestazione in maniera positiva, anche se magari potevamo aver espresso qualcosa di meglio dal punto di vista del gioco e partite antecedenti, però siamo contenti e ovviamente dopo le giocate di qualità i giocatori come Adriano e Rugge ci danno quel che ci serve, ci fanno la differenza di cui noi abbiamo bisogno. Andiamo domenica prossima, seconda partita consecutiva a Casalinga, arriva la polista San Giuliano City, davvero inarrestabile, però in questo momento il Ponte San Pietro non ne ha per nessuno. Magari fosse che riuscissimo comunque a strappare punti anche domenica, ovviamente non si vive sperando ma le cose ce le andremo sicuramente a guadagnare. Ciò che di buono abbiamo fatto queste due partite, abbiamo affrontato comunque la seconda e la terza in campionato in classifica, sicuramente andremo là con la testa, con l'umiltà giusta e sapendo di fare la nostra prestazione e tutto ciò che di buono riusciremo a portare a casa, a tenere a casa in questo caso. Ben venga, ecco.